Allenamento congiunto allo stadio Mariani Pavone tra i padroni di casa del Pineto e il Delfino Curi Pescara. Un test interessante per assaggiare le condizioni atletiche e fisiche dopo la pausa invernale per cercare ovviamente di rincorrere i rispettivi obiettivi. Il Pineto con un gennaio di fuoco con il match in trasferta al Gino Cannarsa contro il Termoli in campionato e la sfida di prestigio in Coppa Italia contro l'Arezzo allo stadio Città di Arezzo. Per quanto concerne invece il Delfino Curi Pescara, match contro la Sante Gidiese che vuol dire una fetta importante di salvezza anticipata. Risultato finale dell'allenamento congiunto 2-0 per il Pineto in rete Traini nel primo tempo e Allegretti nel secondo. Le parole dei due tecnici Daniele Amaolo e Guglielmo Bonati. Ma dopo la sosta è sempre, diciamo, delle gare con molti punti interrogativi. Allora, come hai detto, incontriamo il Termoli che è più la squadra in mezzo stagione. Ha cambiato 8-9-11esimi, quindi una squadra, secondo me, più equilibrata, più quadrata. Il testimone è fatto che le ultime tre gare non hanno subito gol e hanno fatto 7 punti, quindi stanno risalendo la classifica. Ma, come ho detto in altre circostanze, il cambiato vero e proprio inizia da domenica prossima. Le squadre hanno fatto mercato e quindi gli organici un po' cominciano a avere un equilibrio maggiore. Se prendiamo il Noteresco ha cambiato 7 giocatori, il Termoli ha cambiato altri tanti, Tolentino. Quindi le squadre che dovevano un po' fare mercato l'hanno fatto e quindi ci sarà la battaglia ogni domenica. Noi, durante questo periodo, abbiamo lavorato per riprendere il nostro cammino. Speriamo che i ragazzi capiscono l'importanza di questa ripresa del giro d'intorno che è tutto un altro campionato. Sono amichevoli che noi comunque facciamo da un po' di anni con questa società, che c'è collaborazione, c'è vicinanza. Per cui oggi a Pinedo è un piacere tornare qui perché si respira calcio in questa società, in questo ambiente. Tutto molto molto bello, tutto molto professionale. C'è anche una cordialità e un modo di porsi che fa onore a questa società. Evidentemente dal presidente in giù, tutte le componenti, Gianmarino, il direttore. Ma anche gli stessi giocatori si vede che c'è un qualcosa in più in questo momento, che io ho ravvisato sempre negli anni. Ripeto, veniamo spesso qui e facciamo delle belle amichevoli. Veramente in massimo silenzio auguro a loro il meglio del futuro perché hanno investito e hanno fatto sempre le cose in una maniera spettacolare. Ripeto, veniamo spettacolare.